Musica 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 22.000 chiavi In che sembra fragile sta macchinina Lo è Musica 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 Hi everybody We're ready for the last week Today we're in pyjamas Tomorrow we'll be transvestite And Con cittawurst Con cittawurst So So I'm walking by myself up to school There's no one here to hold the camera And I forgot to go back to play volleyball Should be fun Can't play really So So yeah Just Taking selfie to the extreme And filming myself for a while It's the last week of school And I've been here for 14 years of my life And That is a long time And so Decided to make this short film Should be interesting That's about it That's about it That's about it Shits going down man Last week of school And We're just playing casual footy All the gay fags Like the French and the Germans We've changed into their Clothes clothes But Last English people were hardcore So we're playing in our pajamas And I'll get a short of my PJs And yeah I got some tattoos My mum won't be happy But you know How could she do? What? It's like A lunchbox And it's like really moldy Do you take a look? Do you? It's a lunchbox Sure Beautiful locker Take a whiff Smell it Why does it smell like puke? For some people I'm laughing I ask him You're laughing You're looking What? I'm going to talk? Do you want to talk? Yeah. About anything Did you have a grumpy asshole? grafico esponenziale alla quadratica media bike e prunzia poi quando è che vi faccio la prossima decisione? giovedì prossimo tesoro? poi stai a posto e va di pagare adesso 25 euro 25 euro 25 euro e la vedremo E' una sfida apertissima e' una sfida apertissima Da solo Kenny e Rebecca principalmente Si stanno per ammazzare l'imbiligo L'imbiligo su un rasoio Poi c'è Tommy là dietro che sta fissando e si tocca la pagina Ora smesso, ora parla la sua Allora, allora vai Ok, quindi è il secondo giorno della settimana scuola È un giorno di tre, ho cambiato ora perché sono molto impracticato Noi leccano perché sono decisamente approcciato Allora, oggi ci sono Dio La stazione è un conchitta You have to ask for a no 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 is that the best thing which is happening in your life yeah what's the second me 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 you have every right and it may be difficult and lonely at times there is no greater privilege than owning the sun can you fill it in you? yeah oh 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 She's going to walk into my crib. It's a field. I feel like this shot is going to be really cool. It's just me walking through a field. But Tindataman, tomorrow fictional character day. Let's go, let's see what's up. Everybody put your hands up in the air! Quello lì è il mio? Non il mio. Non è il mio? No, il mio. Ok, ok. L'anno prossimo, non lo so dove vado. Però comunque andrò e mi ricorderò di voi. Perché siete fantastici. Puccio, eh. No, davvero, eh. E anche se tipo avessi chiesto al più bello e più bravo pittore di disegnarmi i migliori amici del mondo, non li avrebbe disegnati belli come voi. Tesoro. 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 un po' ritorto, non l'hai ripresa fa tipo zoom tattico E' Sure, sono molto cosa cattivano Ma cattivano qua? Koteva ovunque Oh,э non handsome As is everyone. I think it's got to the point now where everyone is either sick, or is just exhausted because it's a combination of wanting to be with people and stay up late and party with them and all the pressure of studying for the dreaded exams, which we all know are coming, but I don't really want to admit. That's what's been going on today, and tomorrow is the last of days, like the last official school day, which is kind of surreal. It doesn't feel real at all, hence my use of the word surreal. Have fun editing this. Nirvanya. 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 We should do. Okay, three, two, one, go. Let's go! Angie! RRRRRAAAAAA Arriba! No, siamo roller demi. Ah, 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 ah. I did my best. Ah, 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 ah. Stato in cara. Oh, no, no, no! Ah, non si può fare, non si può fare, non si può fare. Andiamo a fare adesso la spesa Stiamo mettendo un po' di soldi al CS Siamo in tanti quindi se volete dare un'offerta prendiamo molto più roba Offerta alla comunità Chi ma sia un uomo e un uomo e un uomo Ragazzi ragazzi ci servono anche soldi per prendere palloncini e roba per tutto stanotte Chi vuole dal cash stiamo andando adesso E' un po' di soldi E' un po' di soldi E' un po' di soldi E' già troppo veloce E' morto Per chiedere giocare E' connectors Andiamo! E' morto E' difficile E' normale Si Abbiamo fatto poche ore di scuola ma intense Dopo cos'è che si fa? Lui si fuma le canne perché si droga Si va la schietti Robin cosa fai? Emozionato Robin Robin è emozionato E' illegale entrare a scuola No ragazzi Allora se arrivate i carabinieri sapete cosa faccio Guardate vi faccio E piangere Non fate piangere Ragazzi ci sono io bianco Cioè muoio Io mi piuttosto vado in cella Ma io dico prendetemi E dove c'è il tallone Ma io l'ho Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.